Speed Race, l'ABC dell'energy drinking. Poi per l'inverno, se non avesse andare a una sentenza, si è fatto lo studio di registrazione. Sì, sì, ho lo studio di registrazione. Io ho più costa. Sì, lo so. Io ho cercato di far cliccare su tutte le macchine. Poi in realtà ci vogliamo bene, lo so. Ho visto quasi farci un po' benissimo, no? Un'invenzione di questa. Una puntura d'amore che si fa. Io te lo dico il film proprio. No, un po' facerebbe... No dai, sono felice. Allora spero di decidere bene. Sto tenendo aperte un po' le parole perché c'è una volta interessante il tuo supporto dal progetto. Però siamo sicuri che possa dare approfittura quindi ci ho dato qualche po' di cose e spero che poi decideremo sì o no poi ci siamo assoluti. Però nel... Sei fatto anche le IMI Sì, sì, bello. Questa è una strada. Chi ci hai dato poi dopo la zona? Tanto se devi stare a casa, guarda, non è male. E non è male. No, non è male. Io sono già andato in America un anno. Io a mio carizzo in Italia, sono piccoloso. Ah, perché vorresti anche tornare? No, perché fiove due settimane. Hai ragione. Hai convinto su tutto? No, ma non è solo. No, no, è una proposta. No, però sono quelle proposte che non sono proposte. Non bisogna mai... A priori. Sì, sì. Mi viene cinque minuti, tre, quattro minuti, solo due e mezzo. Due e mezzo, sì. Due e mezzo, due minuti e mezzo di niente. Sì. Di nulla assoluto. Ma lo facciano tutti poi. Sì. Ciao. Ciao. Speed Race, l'ABC dell'Energy Drinking.